signora come va con la neve si fa la spesa sì com'è andata bene per noi bene che sono straniera io sono abituata a lei è abituata alla neve da dove viene? da Moldavia e allora in Moldavia mi sa che c'è un po più di neve di qua sì ecco quindi per lei è una passeggiata sì 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 va bene comunque sempre bello sì è bellissimo è bello si gira bene però sì ma questo è molto difficile per per andare a studiare perché non si gira facilmente no però lo spettacolo è la spettacolo è bellissimo consegne anche con la neve e come si gira però nelle strade si gira bene si gira bene si libera abbastanza sì e la vedo bello baldanzoso lei se la sta godendo mi sa io sono dolbino per me indifferente quindi per lei ne va bene tutto si è giusto che faccia insomma sì sì poi sto a mazzaferro circa due chilometri qualcosa sono andato a piedi adesso vado a prendere bene i putini poi ritorniamo a casa è posto questo paesaggio un po così particolare ci vuole una volta nevicava sempre e spesso e ne faceva molto adesso a tratti perché nevica piove c'è il sole però sono sempre un po bene ti attrezzati da neve vedo voi addirittura con lo zaino ma perché io non so di qua e quindi stai andando alla casa sua casa sua che qui per studio cosa studi ctf oggi sono aperte le università non le hanno tenute chiuse no sono aperte sono aperte quindi sono problemi qualche difficoltà è abbastanza voi di dove siete l'aquila e beh voi con la neve ci avete abbastanza stamattina ce ne stava un palmo buono si è tenuti su con i mezzi io con la macchina si gira bene ma guarda la strada è tutta pulita anche perché non non fiocca fino a fino più o meno entrato nelle marche non nevicava poi ho trovato un po di neve poi questo torbino poca poca mu sta rifà un po